ciao bimbi good morning allora buongiorno a tutti ho pensato siccome siamo arrivati verso la fine della scuola di fare quest'ultima lezione con qualche giochino per salutarci e proviamo a fare finta di essere in classe e come facevamo proviamo a fare un ripasso utilizzando le nostre flash guides ok in particolar modo andremo a ripassare gli school objects gli oggetti scolastici i colori and the animals ok io qui sul mio tavolo tutte le mie flash cards ve le faccio vedere veloci veloci mentre ve le faccio vedere voi provate a dire a voce di che oggetto si tratta o di che animale o di che colore vediamo se ve li ricordate ok ready ok so what is it it's a pen what is it it's a book what is it it's a pencil case what is it it's a rubber it's a rubber ok now you can see it what is it it's a pencil what is it it's a felt tip pen it's a felt tip pen what is it it's a sharpener what is it it's a ruler what is it it's an exercise book very good very good now we are going to see the colors ready alla fine quando li abbiamo visti tutti proviamo a fare il nostro solito gioco dove io ne nascondo una e poi provate a indovinare quale ho nascosto ok ok so here we have the colors the first color is light blue very good then we have blue like the sea another color like the rice come rizzo it's white so perché non si vede molto bene oggi qua one more color pink orange grey brown and green can you see this maybe like this ok green ok very good so now we have seen the school objects we have seen the colors now we are going to see the the animals together the farm animals and we start from the cow good what is it it's a big what is it it's a duck vediamo se ve la ricordate and we have the dog this is the donkey and here we have the goat remember the goat the horse the rabbit the chicken and the last one is the sheep ok the sheep very good quindi adesso cosa facciamo vediamo un po' io pescherò qualche carta un po' dai colori un po' dai nu da gli animali e un po' dagli oggetti scolastici ve le faccio vedere ne pesco sei e poi ne tolgo una e voi da casa provate a indovinare quale ho tolto ok ok so very good here we have six cards ok six cards hmm let's see what i've got i have got a book a pen a horse a goat color pink and color white ok come vi ho promesso ne vado a eliminare una vediamo un po' se avete memorizzato bene 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 quelle che vi ho fatto vedere e mi dite quale mancava ready book white pink horse pen allora come compito nelle vostre comunicazioni mi andate a scrivere qual era la parolina della carta che avevo tolto ok la prima adesso facciamo un altro giro e mi ok ok we are ready to start one more time i have got sheep chicken color gray color sorry orange ok this is orange and the color and the color sorry the school object this is a an exercise book exercise book exercise book il quaderno and the school bag ok ok ne tolgo una mi raccomando poi mi scrivete qual era ok 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 ready i have got vediamo cos'è rimasto orange the color gray the color ok now chicken the sheep and the school bag ok bene spero che vi siete divertiti mi raccomando ditemi quali sono le due soluzioni delle due carte che io ho tolto se avete voglia ovviamente e mi mando un grosso bacio bye bye Grazie a tutti.